Io le faccio vedere questo passaggio che ci è stato dato da Radio Rock, da un mio caro amico Dain che fa questo lavoro. Guardate che musica suona e canta il presidente, il neopresidente Arrai. Un pezzettino giù, presidente, e poi le faccio la domanda. Le faccio la d'inizio. E dai, che è una cosa diversa, presidente. Si sta fatto risale. Ma io ho un problema, mia mamma che non c'è più una cantante lirica, se mi sente cantare... Ma no, mamma. Se le faccio sentire gli altri, sua madre dice che l'è bravo. Guardarsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni sconosciuta. Senta, presidente, che tipo di Rai sarà, secondo lei? Una Rai più intonata di me. Diciamo che Fo è stato simpatico. Diciamo che non l'abbiamo scelto perché sapeva cantare.